Un match è un appuntamento che ha più di un significato per te, questo di Firenze, no? Sì, questo match ha molti significati per me, nel senso che finalmente, dopo tanti sudati match, ho l'occasione di combattere a casa mia, con il mio pubblico, con i miei amici, con tutta la gente che ci crede come me. Quindi è la mia occasione, il mio titolo mondiale, farò di tutto per prendermelo. Sicuramente Denise arriverà molto preparata, lo era già la prima volta, e non mi nascondo che è stato uno dei match più duri della mia carriera. Non per questo appunto le renderò vita facile, nel senso che ero pronta a Sir Luis, come ho già detto, sarò pronta a Firenze. So che avrò l'appoggio di tutti quelli che credono in me, sia fisicamente che spiritualmente, quindi diciamo questo match lo possiamo vincere insieme, io ce la metterò tutta. Firenze mi ha adottato e in tante occasioni mi ha fatto sentire la vicinanza. Quando ero in America sono stata tempestata di messaggi e anche a distanza ho sentito tutto il calore, quindi non mi sentivo sola, a volte in trasferta succede. Sono molto motivata, non credo che sentirò la pressione, diciamo l'ansia della prestazione, perché appunto il tifo, penso che il tifo sarà talmente assordante anche da non farmi più pensare al resto, nel senso che penserò solo a combattere per chi crede in me e chi mi ha considerato e ne sono onorata un esempio. Questo match è molto importante per me, perché è stata la prima volta che ho pensato, che ho vincato, che ho vincato, e ora ho vincato, che ho vincato qui ho vincato. Quindi sono più felice di ogni altra, quindi non posso aspettare.